Poi addirittura fa intervenire il proprio portiere Grisco sul quale corre Casirachi, dribbling avventuroso di Grisco che poi regala il pallone a Rambaudi, la conclusione di Rambaudi e la palla in rete! La Lazio è in vantaggio, ha segnato Rambaudi approfittando di un clamoroso errore del portiere Grisco ha fatto benissimo Casirachi ad andare a disturbare Grisco che si è avventurato in un dribbling e poi gli ha letteralmente regalato il pallone. Palombella, come si dice in gergo di Rambaudi, ma guardate l'espressione impassibile di Zeman e poi quella sicuramente avvelenata di Senol Gunesci, allenatore del Trabzospor la Lazio è passata in vantaggio, ha segnato Rambaudi. Ecco, questo succede quando i portieri che non sono bravi coi piedi vogliono, cioè hanno la presunzione di prendere il pallone, di passarlo, di fare... non c'è niente da fare, in questi casi bisogna prenderlo buttarlo via, anche in fallo laterale, non bisogna fregarsene dei fischi perché abbiamo visto cosa è successo. È una grossissima azione regalata, un gol regalato alla Lazio in questo caso.